Amici modellisti, benvenuti su Model on Passion e benvenuti sulla scuola di modellismo di Model on Passion. La puntata di oggi sarà una puntata particolare, non concentrata su quello che state vedendo sul tavolo, cioè sull'aerografo, sull'apertura spruzzo e sul colore in genere, ma sarà una puntata nella quale andremo a valutare e a studiare insieme quelle che sono le influenze delle condizioni ambientali sulla fase di colorazione. Cerchiamo quindi di studiare, di soffermarci su questi aspetti legati alla colorazione nel modellismo. Tutto questo subito dopo la nostra sigla. Allora, come abbiamo detto, quando parliamo di colorazione, bisogna stare molto attenti, non soltanto per quanto riguarda il colore, cioè la tecnica di colorazione, ma bisogna andare a valutare anche quelli che sono gli aspetti ambientali che hanno un'influenza positiva e negativa sulla fase di colorazione sui vostri modelli. Questo vale sempre, sia se parliamo di areografia, quindi con l'utilizzo di un areografo, sia se parliamo di pittura spruzzo con una bomboletta, di qualsiasi fattura, qualità, tipologia e marca, sia se noi stiamo parlando di colori a pennello, sia se essi acrilici, come in questo caso per itamia, sia se sono di un'altra marca o di altre tipologie. Questa è una regola che vale per tutti. Infatti c'è una importante, per non dire quasi cruciale, dipendenza tra i fattori ambientali e la qualità e anche la tipologia di colorazione sul vostro modello. Quali sono allora questi fattori ambientali da considerare? I primis l'umidità e la seconda la temperatura. Sono due concetti che devono andare di pari passo con la colorazione del vostro modello. La difficoltà, diciamo, di saper andare a valutare colorazione, umidità, colorazione, temperatura e poi colorazione, temperatura, umidità insieme, ha una valenza di tre navi. Questo perché? Perché non è un problema che è legato soltanto al principiante, al neofita, a colui che inizia la fase di lavorazione al modello, ma anche per coloro non che sono professionisti nel modellismo, ma coloro che invece hanno incominciato a prendere di mistichezza con il modellismo e con le colorazioni. Questo perché? Perché all'inizio il principiante sta particolarmente attento a quello che sta facendo, quindi segue di più un filologico, segue di più una tecnica. Man mano che poi si incomincia ad essere smaliziati sulla lavorazione, si incomincia a testare, si incomincia a provare, si incominciano a muovere proporzioni e situazioni al limite del difficile, diciamo così, tra virgolette. Quindi la possibilità, la probabilità di ingappare in errori è maggiore rispetto a quello del principiante. Ecco perché nella lezione di oggi, corso lezione di oggi, cercheremo di capire qual è il peso dell'umidità nella colorazione, qual è il peso della temperatura nella colorazione. Ciò vale, come avevo detto, per tutte le tecniche modellistiche. Cominciamo con la bomboletta. Cominciamo con le bombolette. Ripeto, questa che abbiamo preso è semplicemente un esempio, non è perché il nostro discorso la facciamo solo su questa e non vale per le altre. Vale per tutte le tipologie, ovviamente considerando la diversa natura e fattura delle sostanze chimiche presenti. Comunque, a prescindere questo, perché iniziamo dalla bomboletta? Iniziamo dalla bomboletta perché è sicuramente l'elemento che più viene utilizzato nel modellismo per un discorso di principianti, cioè fondamentalmente chi inizia nel modellismo inizia sempre con una bomboletta o quasi sempre con una bomboletta. Quindi iniziamo da quest'ultima. Allora, qual è l'effetto dell'umidità e della temperatura sui colori? Allora, dal punto di vista generico, l'umidità, che non è altro che la presenza di goccioline di acqua, di micro goccioline di acqua nell'aria, va a interagire chimicamente, poi vediamo anche tecnicamente, con proprio la verniciatura, quindi la tecnica di le le aure, quindi proprio di sovrapposizione del colore, sulla superficie. L'umidità va a essere generata sia per un eccesso di temperatura, di sbalzi di temperatura nel caso dell'estate, oppure per un sbalzo di temperatura inversa durante il periodo invernale. Quindi quando in estate ci sono degli sbalzi di temperatura molto elevati, una parte del calore viene trasformato in goccioline di acqua che rimangono nebulizzate all'interno dell'ambiente, quindi in una camera, in una stanza, in un garage, ovunque, voi potete trovare queste goccioline. In inverno si ha la stessa cosa, i passaggi di stato repentini possono provocare la formazione, quindi il passaggio da gas ad acqua, di queste piccole nebulizzazioni nell'area stessa. Il risultato di questo è che il colore appena aperto, o comunque spruzzato, va ad interagire con queste nebulizzazioni e va, in rimediabilmente, in alcuni casi, ad intaccare la tecnica proprio di sovrapposizione di strade di colore sul vostro modello, sulla superficie. La nebulizzazione può essere neutralizzata, e come viene neutralizzata? Cercando di mantenere costante la temperatura all'interno dell'ambiente, quindi se parliamo di, per esempio, periodo estivo, prima di andare a utilizzare qualsiasi tipo di colore, bisognerebbe in teoria o accendere il deumificatore, se avete un'aria condizionata, oppure andare accendere dell'aria condizionata per cercare di ridurre la quantità di nebulizzazioni, quindi far convertire queste goccioline in gas. Se invece parliamo nel periodo invernale, bisognerebbe in teoria evitare le giornate particolarmente umide, quindi di pioggia particolarmente umide o particolarmente nuvolose, e cercare di andare a verniciare soltanto quando c'è un freddo secco. Quindi nel periodo invernale si dovrebbe utilizzare la tecnica di colorazione quando c'è un freddo secco e in estate quando abbiamo un caldo secco. I posti, i luoghi dove il caldo è fondamentalmente umido sono un ulteriore deterrente a, diciamo, influenzare negativamente sulla tecnica di colorazione. Quindi in estate bisognerebbe andare a utilizzare un ventilatore per far, diciamo, girare l'aria se non si ha dell'aria condizionata, oppure accendere l'aria condizionata o il deumificatore prima, almeno una mezz'ora prima, prima di poter effettuare la colorazione. Tutto questo vale per le bombolette come anche per tutte le altre. Nel caso della bomboletta la negatività sta nel fatto che noi andando a premere il pulsante di, diciamo, per far uscire appunto il colore, il gas all'interno, le goccioline si vanno proprio a immettere davanti all'apertura. Questo è un colore usato, se vedete questo è perché è un colore usato, è un test. Ma fondamentalmente queste goccioline, quando noi andremo a premere, a pigiare sul pulsante, l'aria muoverà le goccioline, che interagirà con il gas stesso, si porterà il colore con sé e andrà ad appiccicarle sulla superficie. Il risultato sarà una superficie non liscia, quindi un colore non liscio, ma tendente al granuloso e tendente a creare delle bolle, che sarà appunto la gocciolina di acqua sulla superficie stessa. Quindi bisognerebbe stare in un luogo aperto, ma fondamentalmente secco. Stessa cosa vale anche per quanto riguarda la temperatura, perché quando noi andiamo a spruzzare o con il troppo freddo o con il troppo caldo, la stessa cosa accade, nel caso della bomboletta, l'eccessiva temperatura, la temperatura troppo calda, la temperatura troppo fredda, va a creare una condensa proprio nella parte dell'apertura della pittura. Quando noi andiamo a pigiare sullo spruzzo, questa condensa, cioè la nebulizzazione, viene spostata e viene stampata sul nostro modello. Cioè abbiamo creato la stessa cosa dell'umidità di prima, ma soltanto con la temperatura. Quindi anche qui bisogna evitare di colorare quando c'è una temperatura troppo fredda o una temperatura troppo calda. E soprattutto quando c'è molta temperatura umida, quindi un caldo umido e un freddo umido. Discorso molto simile lo andiamo ad applicare al discorso areografo. Solo e soltanto che andremo a moltiplicare l'errore che abbiamo visto all'interno della bomboletta, perché mentre la bomboletta è standard, nel senso che non ci permette di andare a fare una regolazione come nel caso della doppia azione, della re-overfa doppia azione, quindi andare a valutare la quantità di aree, la quantità di colore, lì è standard. Ed inoltre noi lì abbiamo un'irregolarità nel caso proprio del pulsante. Qui invece abbiamo che cosa? Un colore che abbiamo acquistato, l'abbiamo diluito, abbiamo rotto il rapporto chimico originario della boccetta, siamo andati ad aggiungere un prodotto molto liquido all'interno della camera ed inoltre l'umidità che noi troveremo all'interno del contenitore e anche nella parte qui del lago, che può essere anche molto più fine rispetto a quello della bomboletta, questo va ad amplificare ulteriormente l'azione negativa dell'umidità presente nell'aria e della temperatura troppo alta, troppo bassa e quindi la generazione di condensa sia nella parte della camera sia nella parte anteriore appunto del lago dell'areografo. Quindi anche per l'areografo bisogna stare particolarmente attenti perché qui i layout che noi andiamo a mettere, i layer, sono molto molto più sottili, quindi è più evidente ancora la presenza di questa condensa, di queste nebulizzazioni sul modello. Bisogna obbligatoriamente lavorare in un ambiente secco, quindi caldo secco, freddo secco e evitare che ci sia un'alta quantità di umidità all'interno del luogo in cui stiamo lavorando. Quindi utilizzare ventilatori, ricicli di aria, cercare di avere una temperatura quanto più regolare possibile, standard possibile, e utilizzare deumificatori, se state utilizzando in camera chiusa o in casa, e utilizzare l'aria condizionata per cercare di avere una temperatura secca o quanto più secca è possibile. Scorso uguale vale anche per i colori a pennello. A differenza degli altri, nel colore a pennello potrebbe essere meno evidente durante la fase di lavorazione, ma il risultato lo andrete a riscontrare nel tempo. E vi spiego in che senso. Quando noi andiamo a utilizzare un colore a pennello e non lo andiamo a diluire, lo andiamo a utilizzare così com'è, le resine vanno a fare il loro lavoro, cioè quelle di isolare tutto quello che c'è intorno, quindi la parte ambientale, con il colore stesso. Il problema è l'umidità, la nebulizzazione e anche la condensa che voi avrete sul modello stesso. Queste goccioline, che non si vedono, sono assolutamente microscopiche, che vanno a depositarsi sul modello, quando voi andate a utilizzare il pennello, lo intingete nel colore, poi lo passate sopra al modello stesso, andrete a miscelare il colore, il solvente, il diluente, perdona, all'interno della boccettina con quest'acqua che trovate sulla superficie. Questo vi darà, a pittura asciutta, una colorazione irregolare, vi darà delle discostanze tra i dettagli e il colore stesso, quindi vedete che il colore non ha aderito completamente alla superficie, e nel tempo, cioè quando, diciamo, il modello ormai ha superato un anno, due anni, eccetera, eccetera, l'azione ambientale interagisce con quell'acqua, con quella piccola l'embolizzazione che si trova al di sotto del colore, formando delle crepe, togliendo lucentezza, lucidità al prodotto, al modello, e quindi anche un eventuale viraggio del colore stesso. Quindi, in parole povere, se voi avete creato un effetto, avete creato tutta una situazione, questo effetto va piano 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 a disgregarsi nel tempo, quindi la conservazione del modello non si ottiene nel modo migliore, ed inoltre il modello ha una sensazione di invecchiarsi prima. Quindi, nelle tecniche tutte, ecco, ne andiamo a posizionare qui, nelle tecniche di colore che noi andiamo sempre a effettuare, qualsiasi esse siano, bisogna fare particolarmente attenzione alla temperatura e all'umidità dell'ambiente in cui voi state operando. Anche l'esterno, cioè anche se andate su un balcone, anche se andate in un parchetto a colorare, il discorso è sempre lo stesso, sia in ambiente chiuso che in ambiente esterno, bisogna mantenersi sempre ad una temperatura che sia primaverile o fredda secca, quindi un freddo secco o un caldo primaverile. Quando, ovviamente, ciò non è possibile, bisogna andare a togliere l'umidità nell'aria, bisogna abbassare la temperatura. Quindi, in genere, la temperatura deve essere intorno ai, insomma, 16-18, 16-20 gradi, che sia ovviamente una temperatura, abbiamo detto, priva di umidità nell'aria, mentre per quanto riguarda l'umidità non deve mai superare le quantità classiche, che abbiamo appunto indicato nel video, quelle che vedete appunto indicate nel video, tipiche delle colorazioni. Queste valutazioni, sia in temperatura che ovviamente in umidità, variano a seconda del prodotto, quindi non sono standard, ma ogni produttore, ogni prodotto, avrà un range di utilizzo, sia per quanto riguarda la temperatura, sia per quanto riguarda l'umidità. Amici modellisti, grazie di averci seguito in questa puntata di Scuola del Modellismo, vi abbiamo istruito sulla tecnica e sul rapporto ambiente, situazione ambientale, colorazione. Grazie a tutti di averci seguito e alla prossima puntata di Scuola di Modellismo. Ciao a tutti da Model on Passion.